Io credo che quello che è stato Don Beppo nel passato lo è come attualità ancora oggi. Cosa è stato Don Beppo? È stato l'uomo della preghiera, un uomo di profonda spiritualità e questo vuol dire che è stato il prete della confidenza con il Signore. Tutte le sue giornate partivano e si sviluppavano da qui. Non potremmo capire l'opera di Don Beppo che spesse volte è colta nella materialità, nelle cose che ha fatto senza fare riferimento a questa profonda spiritualità. Quindi un uomo di fede. Ecco perché non possiamo collocarlo nel passato ma nel presente. L'attualità di Don Beppo sta nelle sue radici che hanno ancora oggi da insegnare. L'uomo di fede, che ha una grande fede in Dio, è una persona che è capace poi di spaziare in tutto l'umano a piene mani, senza paura, senza avere timore delle difficoltà ma confidando soprattutto nel Signore. è stato l'uomo della provvidenza e la provvidenza non va concepita come l'aiuto materiale che Don Beppo ha ricevuto. Perché l'aiuto materiale c'è sempre stato e per Don Beppo è stata una grande benedizione. Ma la provvidenza Don Beppo la concepiva anche come la ricchezza dei ragazzi e delle persone che venivano a lui. Non ha mai stato Don Beppo la figura legata al caso o alla casualità. Per Don Beppo tutto aveva un progetto. Tutto era ricollocabile a un Dio che provvedeva anche non facendogli mancare quell'elemento umano bisognoso verso il quale Don Beppo tendeva e soprattutto Don Beppo è stato l'uomo della carità. Una carità che io definirei senza misure. Che ha saputo anche aiutare a fare grandi passi verso l'amore, verso il prossimo e verso i bisognosi anche la Chiesa di Bergamo. Allora anche da questo punto di vista la rilettura delle nuove povertà per quanto riguarda il patronato sono la continuazione di quello che è stato. È stata l'indicazione ma è stata anche la strada che Don Beppo ha percorso. Ecco direi che in questi tre aspetti un uomo profondamente innamorato di Dio. Un uomo che ha creduto fino in fondo nella provvidenza che erano soprattutto le persone che ricorrevano a lui e l'uomo della carità che noi possiamo rileggere e attualizzare la figura di Don Beppo oggi.